Salve a tutti ragazzi, come voi ben saprete in arena ci sono i mostri del male quindi è molto difficile fare soprattutto victor in arena quindi ho punto di più sul camperarmela però oggi ho provato a fare una cosa diversa dal solito ragazzi ho provato a fare la fishing in arena una cosa fuori dal normale ed è pure riuscita bene quindi non me lo aspettavo niente ragazzi vi lascio al video comunque l'intro, bella tutte ragazzi che sappiamo molto di questo nuovo video sono ricordissimo che non ho video di Fortnite ragazzi oggi faremo la fishing in arena fatta l'intro vi lascio al video ragazzi vi lascio al video perché è una cosa epica guardatevelo tutto perché è fighissimo ah giusto ragazzi mi sono dimenticato a ringraziare Stecco Tecco per la nuova intro che mi ha fatto fighissima, grazie Stecco iscrivetevi tutti da lui a 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 Grazie a tutti. 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 Chiamo il tatuatore e gli dico prenoto, prenoto. Provo a prendere il legno, ragazzi. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.